Sono affascinata da questi paesaggi perché ricordano molto la Provenza e non posso che ammirarli con stupore e affetto. Questa è una delle affermazioni di Marion Le Pen, ex deputata francese e nipote di Marine Le Pen, leader dell'ultradestra d'Oltralpe. Un viaggio nella terra d'origine del compagno Vincenzo Sofo, candidato del Carroccio a Sud per le prossime elezioni europee. San Marco Argentano, Altomonte, Guardia Piemontese e alcuni dei luoghi visitati prima di arrivare a Paola, a suggellare quasi quell'antico legame con San Francesco. Il santo, temuto dai sovrani Luigi XI e XII, che lo vollero come loro consigliere, è sepolto a Tur dove il fondatore dell'Ordine dei Minimi morì nel 1507. È la seconda volta per me in Calabria perché sono venuta l'estate, ma non in questa parte, la parte di Aspromonte, Bovalino, Scilla, ma è un territorio incredibile. È interessante per me di venire per fare questo omaggio a San Francesco di Paola perché lui è un po' un santo francese, un po' un santo italiano, e un po' un ponte di riferimento per l'alienza franco-italiana che sono venuta a difendere con Vincenzo Sofo in questa compagna europea. È ancora più importante perché? Perché vengo dalla Britannia e questo santo è il santo che ha contribuato a fare l'alienza tra la Francia e la Britannia. Dunque tutto è perfetto e è una buona idea di venire qui. Una visita privata politica alla loro e nell'esaltare le bellezze e le peculiarità della Calabria non si è lasciata sfuggire l'occasione per evidenziare l'impegno politico del fidanzato. Incredibile di vedere questo territorio che è tanto bello, che ha tanto prodotti di qualità e che non è sufficiente conosciuto perché vedo in Francia non è un territorio che è molto famoso per il turismo, allora che in realtà tutto è qui per avere le migliori vacanze del mondo, dunque spero che con Vincenzo Sofo, con questo tipo di candidato, questo territorio sarà difeso correttamente domani al Parlamento europeo.